we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi paparapà arriva la modalità aviazione reale su fortnite una nuovissima ltm dove gli aeroplani sono i protagonisti in questa veramente divertentissima nuova modalità volevo farvi vedere anche ragazzi prima di vederla nel dettaglio le sfide che sono arrivate quelle che vi avevo anticipato nei giorni precedenti dei video eccole qua sfide aviazione reale ci regalano in poche parole un sacco di punti esperienza e anche quattro diverse skin per i veicoli e per le armi oggi ragazzi visto che è il primo giorno abbiamo già tre sfide gioca partite ad aviazione reale un totale di sette ci daranno la skin alias teschio fino ad arrivare all'alias falcone alias lupo e poi l'alias calabrone l'ultima skin c'è una skin tra l'altro eccola qua relativa all'evento che si chiama supersonico ed è veramente OP mi è scappato il dito l'ho presa raga mi è mi è scappato il dito è veramente stra bella 2000 v bucks una skin leggendaria che però ha degli stili personalizzati eccolo qua ragazzi come vedete ogni stile è anche relativo alla skin che sblocchiamo quindi nelle sfide della modalità bellissimi davvero tutti è veramente molto molto bella come skin infatti non ho esitato a soppazzarla insieme alla skin eccolo qua il backpack reattivo avete già capito sicuramente che ci segna le kill che facciamo in tempo reale e tra l'altro si vede veramente benissimo dall'aeroplano vi ricordo che questa modalità aviazione reale è una modalità che è preferibile giocare in coppia ed è molto molto più divertente come funziona vediamola mentre iniziamo praticamente si parte subito dall'aeroplano la safe esiste ma al posto che stringersi si abbassa ok quindi attenzione a non volare troppo alti non possiamo parcheggiare l'aereo a terra o meglio possiamo parcheggiarlo ma per pochissimi secondi e non ne vale davvero la pena perché se no esplode abbiamo tre vite quindi l'aereo a 2000 punti salute lo sapete totali ogni volta che esplode perdiamo una vita ma se non ho capito male ogni volta che noi facciamo esplodere un aereo avversario guadagniamo una vita mi sembra di aver capito così ci sono ragazzi ovviamente un sacco di oggetti che si possono prendere i bauli esistono perché giustamente uno dice ma porco mondo come faccio io a prendere un baule se sono su un aeroplano hanno inserito un nuovo metodo solo per questa modalità dove praticamente i bauli sono dei cerchi colorati con l'ologramma del baule in mezzo e una volta attraversati otterremo un set di armi in base alla rarità del baule non comune comune raro epico e leggendario ogni baule che prendiamo ci potenzia le armi del nostro aeroplano perché l'aereo plano ha la possibilità di utilizzare armi diversi diverse oltre che la classica mitraglia quella che siamo abituati ad utilizzare ovviamente mi sembra che siccome mettiamo che noi stiamo guidando passiamo attraverso al cerchio anche il passeggero ottiene delle armi della rarità del baule che abbiamo appena recuperato attenzione cosa succede se per caso abbiamo un set di armi rare e passiamo in mezzo ad un cerchio non comune non ci sostituisce le armi ma ci dà le munizioni per le armi che abbiamo e tra l'altro in giro per il cielo ci sono dei cerchi rossi che sono i kit di riparazione quindi se l'aereo viene danneggiato noi attraversando il come si dice attraversando intanto metto il volume del del gioco così lo sentite attraversando il cerchio del kit di riparazione otterremo dei punti bonus salute per l'aereo come vedete ragazzi si parte in aria ed eccoli qua stanno già droppando tutti i chest andiamo intanto guardate ragazzi mica proat beccatevi il nuovo loot lake aia aia la nuova base raga la nuova base op vabbè dai ne parleremo in live tra poco tanta tanta roba allora questo è un drop epico vediamo di andare a recuperarlo come vedete sotto gli indicatori sotto la mappa ci sono ancora 33 aerei i nemici in giro e noi abbiamo ancora tre vite vediamo di proseguire vi faccio vedere adesso lui ci dà un set di armi base in realtà noi non possiamo sparare perché stiamo guidando quindi easy per questo è divertente giocarla in coppia questa modalità guardate vedete i chest che girano su se stessi attenzione la safe che sta già arrivando un no 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 non voglio prenderlo in sé non voglio prenderlo fuori safe aspetta ne cerchiamo un altro guardate quanti ce n'è guardate quanti guarda ne scende uno qua non comune andiamo a prenderlo e vi faccio vedere perché ci dovrebbe dare anche quanto diamine veloce questa safe aspetta un momento è troppo veloce non pensavo fosse così veloce è la prima partita che faccio anch'io ragazzi attenzione no non riesco non riesco a prenderlo vediamo ecco questo qua questo qua è un disastro è un disastro tra l'altro sono bellissime le skin per gli aeroplani e ne arriveranno altre più avanti andremo nei prossimi giorni sette giorni per completare le sfide ecco qua guardate un po' hai visto che vedi sopra la mitraglia abbiamo un timer con un'arma rara cioè mica proat spariamo i missili are you seriously attenzione a non colpire niente guarda 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 qua scendono cose un po' più interessanti vediamo un non comune vedi ci ha dato una mitraglia verde ma se noi prendiamo questo abbiamo le bombe tipo sono colpi infiniti e io posso tenere premuto e sparare quanto mi pare piace ovviamente per un periodo di tempo limitato volevo prendere un guarda qua guarda qua questo è un kit di riparazione vedi kit salute e riparazione trovato ma eravamo già full quindi niente di interessante vediamo vediamo se riusciamo a trovare un drop epico un chest epico siamo dentro in qua ecco qua guarda qua però ma sparano a questo buona così si sparano a questo è il passeggero dell'altro elicottero che ci spara dell'altro lasciami stare o che diamine vuoi ma io non ti ho sparato ma aspetta lasciami stare maledizione un secondo oh c'è un chest leggendario c'è un chest leggendario guardalo 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 epico qua guarda qua quello leggendario mica spariamo speriamo i razzo missili in aree super fulmini dove diamine sei dove diamine sei aspetta che proviamo andare a prenderlo aspetta eh io adesso è la prima volta che gioco quindi non è che sono così ferrato Mario oh guardalo quanto li togliamo duecento di danno duecento 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 va che va giù va che va giù trenta ooooooo la grande eliminazione raga proat beh insomma questa modalità è davvero super super divertente spero che vi sia piaciuto questo video dimostrativo mi raccomando iscrivetevi al canale non dimenticatevi di utilizzare nel vostro shop il mio codice creator xuderone noi ci vediamo prestissimo in live ciao ciao